Indagini rapide da parte del commissariato di pubblica sicurezza di Canosa nella notte. C'è stato infatti il fermo di un uomo 48enne già noto alle forze dell'ordine e accusato di essere l'autore del ferimento di Michele Labroca, il 43enne che ieri in pieno centro è stato raggiunto da un proiettile ad una gamba. L'agguato potrebbe rientrare nell'ambito di un regolamento di conti tra clan rivali per lo spaccio di sostanze stupefacenti dopo un altro episodio avvenuto qualche giorno fa sempre a Canosa, il 48enne in carcere in attesa di convalida dell'arresto. Per l'uomo ferito invece ieri il trasporto in auto dopo l'agguato al pronto soccorso di Canosa prima del trasferimento al Bonomo di Andria dove è stato sottoposto nella notte ad un intervento chirurgico per la rimozione della pallottola. L'autore dell'agguato avrebbe agito nei pressi della centralissima piazza della Repubblica attorno alle 13.30 in auto prima di dileguarsi rapidamente.